Ciao a tutti ragazzi sono Occhetto benvenuti nel canale abbiamo finito il campionato cittadino tutte le leg e tutte le leg pokemon contro l'avversario contro l'avversario contro il computer e quindi come vi ho fatto vedere ho fatto un po di deck standard e stessi non so neanche io in che modalità giocare faccio vedere prima la decklist faccio vedere prima quelli san lucario e teflogio ho speso i soldi reali decine di euro lascio sempre sotto i link in descrizione professor o a che sicuro comprate da la ho preso sia il pacchetto di mega re quaza e cheldeo non mega re quaza ex cheldeo sia delle bustine 10 euro di bustine ho scambiato tutti i teflogio che mi servivano per questo è facile da usare si basa molto sulla fortuna andiamo a vedere o vinciamo subito o perdiamo subito ragazzi abbiamo solamente pochissimo pokemon quattro sindaquil due quilava mini eruzione scattiamo la carta dal tuo mazzo sei un'energia 30 danni in più siccome sono tantissime energie allora ragazzi lo facciamo in questo teflogio ragazzi quattro copie quattro copie scambiate due tre bustine ciascuno super eruzione scatta le prime cinque carte cinque carte e per ogni carta energie scattata 80 danni la media è sempre due energie quindi farà sempre 190 danni distrugio di fiamma non lo useremo quasi mai anche perchè poi dobbiamo scattare le energie però non la civita di pomparo e anche far distrugio di fiamma quindi abbiamo quattro sindaquil due quilava e quattro triflosion e poi adesso tutte energie allenatore due ultra ball scattiamo due carte e prendiamoci qualsiasi pokemon due level ball quattro caramella lara riscaccia di energia rimischia cinque carte energie dalla pila di scarti nel tuo mazzo perché maciniamo un botto con triflosion due superiamo per lo stesso motivo però possiamo rimischiare sia pokemon sia energie quindi se ci buttiamo negli scarti anche un triflosion superamo e lo possiamo lo recuperiamo e poi lo dobbiamo prenderlo sempre dal deck con la ultra ball o level ball una mappa della città per vedere le carte premio un senior e junior quattro professor platan e 3 energie perché dobbiamo pescare sempre quattro anemone perché quattro anemone perché cerchiamo una carta allenatore e andiamo a prendere o le level ball o le ultra ball ragazzi le caramellares principalmente e ben 25 carte energie tantissime ci andiamo a fare una sfida giocatore proviamo come va gira e non gira però quando gira è devastante ragazzi inizia l'avversario ed è un male perché dovevamo iniziare noi per attaccare per fare evolvere guardate ragazzi si è arrabbiato cioè io la level ball troppe carte energie e grazie se è così si può modificare pochissimo questo mazzo lui si arrabbiato perché si arrabbiato va beh mi sa che avevamo perso noi mischieriamo sempre tantissime volte peschiamo sempre ci è venuto ci è venuto sì però queste carte energie in mano devono essere tutte nel deck perché che peschiamo dopo con anemone peschiamo un n ragazzi perché non è tutte dentro ho già con la doppia energia no ragazzi è partita a razzo ragazzi guardate la differenza di gioco tra i mazzi tematici e i mazzi un n e mazzi competitivi dove sta n facciamo perché troppe carte energie in mano quanti danni farà boh ah io ho già fatto quello attacchiamo e si ragazzi o faccio anemone o faccio n però mo siamo morti siamo morti noi c'è anche vespa quindi mmm mmm e se non so che deck ha l'avversario vediamo che buttate uh l'uglia turbo mamma mia quante carte c'è trecuta non ha energia però vediamo se muore sin da qui è vero è morto wow ragazzi che bello e la prima è andata velocissimo ma che bello che be decca ragazzi che vi porto eh deve girare deve girare il mazzo decidi quando esce testa io scelgo testa vediamo cosa esce croce perfetto inizia l'avversario il turno dell'avversario dammi un sindacui ok ragazzi perfetto c'è venuta la combo prendiamo sindacui un'energia la caramella e l'ultra bolt per andare a prendere typhlosion siccome inizia lui noi possiamo attaccare però non deve morire qui la che cosa c'ha uno snive ok lo deve evolvere lo può confondere mi sa se ha il deck di serperio però noi lo evolviamo non ci frega niente se lo confonde anzi possiamo già attaccare con 10 per 20 danni però sicura lui da 10 o n mannaggia voi avevo già tutto tutte le carte ma ora mi devo uscire una caramella e typhlosion una caramella e typhlosion una caramella e typhlosion due typhlosion senza caramella mannaggia mannaggia guarda ma guarda un po' tu può anche avvelenare questo cospine si qui c'è il deck di serperio eccolo la c'è il deck di serperio questo qua scartiamo due carte eh ragazzi scartiamo un e due non ci serve vai vai qui lava evolviamo non possiamo neanche evolvi attacchiamo ah grande mamma mia quanti danni quanti danni mi dovevo lasciare il braciere qua avevo vinto ok si avvelena avvelena tutto ok può paralizzare il nostro pokemon quanti danni fa 20 danni non paralizza avvelena con ariados 20 danni a noi cacatas cacatas ragazzi boh vai debolezza level che me ne faccio vabbè metto l'altro metto l'altro così se muore questo qui lava signore yun ci sembriamo la caramella è un'energia vai vai così vai qui lava sei tutti noi se non ha pokemon può quittare l'avversario eh perché è rimasto una carta in mano può solo avvelenare e basta e basta un anno toglie l'anno pesca una carta se non pesca una carta utile si arrende si arrende si arrende palloncino tu fai il palloncino quindi non attacchiamo ok ciaverina puh faccia un typhlosio guarda è pompato abbiamo due carte niente allora ragazzi level ball non non sindaquil 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 quante energie mmm lo possiamo anche shottare però prendiamoci 60 danni prendiamo 60 danni finito finito se ne ho il palloncino solo 10 danni anche perché l'avversario ragazzi non ha energie è bello anche questo deck di serperior ragazzi mi piace tantissimo però non ho nei palloncini e nei serperior non c'ho niente c'ho solo un serperio del mazzo mi ne servono 4 vediamo l'avversario cosa farà siamo tutti aspettando la tua mossa cosa fai? ha già avvelenato con ariados non ha energie e adesso quitterà tra 3 2 1 avevo vinto no che molto probabilmente sarà la tua resa arrenditi no averina non si arrende ragazzi passa il turno passa il turno noi che facciamo? lo evolviamo lo evolviamo quante carte? 2 ci andiamo a prendere eh la ultraball no ragazzi ci andiamo a prendere professor platan questo non è che ci prega niente quante carte? 2 ma si facciamoci un riciclaggio di energia ok le energie in più non fanno mai poi facciamo platan peschiamo un mozzo super eruzione basta una carta perfetto una è uscita boh bene ragazzi tantissimi danni ok l'energia a lui poi platan si evolve lui non... niente più vileno lui se sta giocando può ancora vincere non so come senza energie con il veleno eh un altro attacco ho vinto anche perchè poi posso già potenziarmi sin da quelli in panchina anche se poi ci muore Typhloggio invece di fare proprio professor platan facciamo senior reunion ci andiamo a prendere qualsiasi carta fa che un'altra carta io la metto perchè fa sempre bene una carta una carta ragazzi fondamentale vai professor platan fammi sognare una caramella ah mazzo e aveva stupone ragazzi non deve uscire energia due energie ragazzi escono sempre le energie abbiamo vinto abbiamo vinto questo mazzo ragazzi si giocherà solo abbiamo vinto facciamo un'altra partita velocissima vediamo se vinciamo perdiamo vinciamo perdiamo vinciamo perdiamo ragazzi posso sbaglio tantissimo perchè non sono espertissimo iniziamo noi si iniziamo noi dammi dammi qua dammi qua oh tutti 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 grande che c'hai? Iveltal ex facciamo dopo platan che si ci viene a caramella attacchiamo già Iveltal ex leggiamolo questo attacco mi dà per ogni energia dei pokemon attivi ciclune 90 sposta energia c'è un altro Iveltal che gli oggetti non hanno effetto e ha fatto la megaball e lancia tutta nera 60 danni due pokemon ex una panchina vabbè contro il pokemon ex due a 70 fa le lisir mette l'energia Iveltal no ce l'hanno che tra lì per poter scambiare a costo 0 shaymin pesca le kaira cosa è forte possiamo perdere quante carte che c'hai voglio quante carte l'altro è di sir metti tu maledetto dobbiamo shottare questo Iveltal se shottiamo questo Iveltal questo non può attaccare dobbiamo pescare la caramella con shanapa non è contento pesca anche con shanapa moine con zorwa ma no se lo scarti e peschi ma ragazzi guardate quanto pesca questo pesca tutte le carte che vi servono io c'ho un deck mamma mia che cosa hai questo detto questo dark ray oscuro taglio 30 danni sono abistale viene addormentato tra un turno e lano non ci abbiamo niente non ci abbiamo niente se poi mi butto nel cesso un teflosio un pilava devo rischiare caramella e teflosio niente non rischiamo più così ci mettiamo lui non rischiamo quante carte ho butto a due a lui questo cos'è che è la palla a ciascuno dei pokemon attivi faccio andiamo a lui dopo e il braciere un minimo dai poi pilava poi tyflosion schifezza ragazzi facciamo schifezza dovrà morire questo livello mannaggia la caramella rara quattro stanno e non vengono mai lo scambierà farà porcherie questo qua anemone e chi si va a prendere con l'aiuto n n dopo n farà dopo n non fa attenzione ad n ragazzi perché ci serve senior yun per prima caramella ma muori bravo ok ora pigliamo la caramella la caramella e dobbiamo pensare per dopo sì ragazzi devo pomparmi anche la panchina ho caramella posso tyflosion l'altro sign da qui per dopo quante energie ho buttato? 4 perfetto lo facciamo perché se mo non muore mamma mia così poi abbiamo già l'altro pronto eh ragazzi pregate due energie fuoco vediamo se e il primo se ne va 1 e 2 vadi superamo grande e dai anche la mappa c'è white efflosion ce la possiamo fare shemin vabbè poi lo toglie e lo mette c'ha la doppia energia lo riprende in mano e pesca sta evolvendo zoro però c'ha l'abilità supplente no martello dilompente no ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo l'altra pesca con unknown pesca con unknown dovrebbe avere la doppia energia altrimenti non lo riprende in mano shemin perché lo riprende in mano e lo rimette in panchina e ripesca non ce l'ha hai vero c'aveva n questo c'aveva n maledetto io ero pronto con l'altro aspetta un qualità uh caramellina 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 pietra lieve non ce ne stanno qua quante preta lieve stai facendo che cosa sta combinando però non ha più pokemon x ragazzi non è più pokemon x uh ragazzi superamo grande poi ci andiamo a prendere uno due tre un po' così più energie ah è una è eh no lo facciamo eh sì lui ci facciamo caramellina no non caramella ragazzi ma un pescara mozzo un pescara mozzo un pescara mozzo dai caramellina oh caramella 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 ok cinque carte ho messo lui allora vediamo possiamo vincere possiamo vincere non ci credo turbo zoroark murtusue con l'abilità con l'abilità ripicca ci fa il culo perchè questo lo può scambiare no deve mettere l'energia si supplente perchè c'ha l'abilità supplente ci lo mette nel culo cioè ripicca sollevamente non ho capito questa ripicca e che fai? super eruzione mazzo resistiamo ragazzi resistiamo ah non posso fare la caramella se non c'ho il culo mannaggia non lo sapevo oh che cazzo ho combinato ragazzi del culo combinato troppe energie c'ho ragazzi c'ho troppine c'ho troppine non morirà infatti ragazzi non è c'è tutto in mano c'ho drop drop cart mannaggia platan mi hai fatto perdere platan cioè lui con un'energia ci frega l'attacco distruggi fiamme mamma mia se non riusciamo a fare volo a questo culo siamo morti ragazzi ho sbagliato platan me l'ha messo lì dietro sennò era vinta 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 altre 10 carte energie se pesco qui lava posso vincere qui lava type lotion andiamo a 2 che cazzo pesco niente non pesco niente peschiamo niente potevo vincere potevo vincere potevo vincere potevo vincere se mettevo un ex e non facevo platan avevo vinto grande bravo 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 qui lava oh mamma mia più ci frega più ci frega mini eruzione può fare 60 danni probabile che che mette lui ah 60 danni ho perso che farà 70 danni resistiamo 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 carta aiuto con la carta aiuto cosa possiamo fare una mappa niente ragazzi perchè sono tutta carta aiuto niente non possiamo fare niente ragazzi ci prendiamo la mappa così giusto per per priscio se questo attacco gli fa uscire 2 cazzo 2 4 4 e di 14 14 avevo 17 carte vediamo un po' oh mio dio però mi sa che non non vinciamo perchè lui e si abbiamo perso perchè lui fa supplente ci ammazza fa supplente ci ammazza Zorak turbo Zorak bello bella mossa vuoi anche toglie l'energia ci fai distruggi fiamma wow bella partita ragazzi bella partita bella partita complimenti anche l'avversario non è andato filo da tor potevo vincere ho sbagliato devo ancora imparare tantissimo sul gioco di carte d'epoca mi date dei consigli anche come migliorare il mazzo voi che giocate di più e nel prossimo episodio Lucario standard ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti